Siamo in collegamento con Bruxelles, con l'onorevole Borghezio della Lega Nord. Buonasera, l'onorevole Borghezio. Lei ha detto che il Sud si è comportato come un paese africano, i meridionali addirittura non hanno voglia di spallare la neve. Mi sembra però che la testimonianza che ci arriva ad Avellino smentisca un po' questa tesi, è d'accordo? Sì, la polemica si era iniziata, io parlavo del centro-sud, la polemica si era iniziata con lo spettacolo veramente grottesco che ha dato la capitale nei giorni della prima nevicata. Io tra l'altro stasera contavo di trovare in questa trasmissione, come mi era stato assicurato, il sindaco di Roma. Che purtroppo all'ultimo non è potuto essere dei nostri, purtroppo è vero. La mia abitudine non è di polemizzare con gli assenti. Ma in generale, facendo una riflessione più complessiva, io ho puntato all'attenzione sulle innumerevoli geremia di che si sono sentite nei collegamenti televisivi. Tutta gente che parlava, parlava, si lamentava, non si rivedeva nessuno che facesse quello che dalle nostre parti quando scende la neve tutti sentono il dovere di fare, cioè spalare la neve davanti a casa propria, senza attendere necessariamente l'intervento d'emergenza. Certo, quando ci sono delle situazioni estreme, come quella in cui è avvenuto l'atto eroico dei carabinieri, di cui avete parlato poco fa, l'intervento d'emergenza non solo è necessario, ma è, direi, particolarmente da elogiare. Ma anche su questo io farei una riflessione. Sentendo la relazione del maresciallo, mi sembrava di rivedere le tavole degli inizi del Novecento, con cui un grande illustratore, Beltrame, illustrava la prima della Domenica del Corriere. No, sembra di sentir parlare del terremoto dell'Abruzzo, di fatti lontani un secolo. L'Italia è ancora in queste mani, è ancora in queste condizioni. Basta un po' di neve per creare tutti questi problemi. E la mia risposta è una certa Italia è ancora in queste condizioni. E questo è molto grave, la dice molto lunga. Ma lei sta dicendo quindi, onorevole Borghezio? Non mi tiro indietro rispetto alla polemica. C'è una parte del paese in cui il senso civico è poco sollecitato e forse anche esiste in maniera inferiore. Al nord tutti gli anni ci sono nevicate di questo genere. Eppure queste scene non si vedono mai.